Il futuro viaggia in Filobus. Cagliari è la città italiana scelta in Europa per testare i Filobus di ultima generazione. Zeus, Zero Emission Urban Bus System, è il progetto di ricerca cofinanziato dalla Commissione Europea, che ha come obiettivo la ricerca delle migliori soluzioni di trasporto urbano elettrico e la creazione di sistemi di trasporto ecosostenibili. A Cagliari abbiamo testato le performance dei Filobus 100% Electric, comparandole ai Filobus con motogeneratore e autobus a gasolio Euro 5. I test hanno consentito di valutare consumi, comfort, tempi di ricarica, manutenzione, emissioni, inquinamento acustico e velocità commerciale. Durante l'estate la linea 5 Zeus ha viaggiato lungo un percorso con varie pendenze, dal castello di San Michele fino alle spiagge del Poetto dove i Filobus arrivano senza fili è in marcia autonoma ad attenderli una stazione di ricarica che in soli 8 minuti alimenta le batterie e si riparte i Filobus sono dotati di tutti i comfort per passeggeri e conducenti climatizzazione, sistemi multimediali, sistemi di sicurezza dalla videosorveglianza alle road scan al comodissimo telecontrollo e innalzamento automatico delle aste dai test effettuati a Cagliari è emerso che il sistema marcia autonoma batteria ha consumi energetici inferiori rispetto ai Filobus con moto generatore e i passeggeri intervistati sul servizio hanno gradito questo nuovo sistema filoviario ecologico ed ecosostenibile CTM sostenibili con voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.